Sono stazionari ma gravissime le condizioni di MC, il sedicenne di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale costato la vita ad un suo coetaneo. Per le gravi lesioni riportate i medici dell'ospedale di Gricento, ieri mattina ne hanno disposto il trasferimento e nelle ambulanze nella struttura sanitaria Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono molto critiche e la prognosi sulla vita è riservata. Il tragico schiandosi è verificato su un viadotto della strada statale 115 nei pressi di Contrada Ciuccafa, in territorio di Porto Empedocle. I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter, Piaggio Liberty, che per causa ancora al vaglio dei carabinieri si è andato a schiantare contro il guardi rail. Nulla da fare per il passeggero Marco Castronovo, sedici anni, di Porto Empedocle. Trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Indagini sono in corso da parte dei militari dell'arma che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Lanciato anche un appello affinché eventuali testimoni dell'incidente si facciano avanti. Si fa strada l'ipotesi di un'auto che avrebbe tagliato la strada allo scooter. Ed è stato trasferito sempre all'ospedale Villa Sofia di Palermo un sedicenne di Canicattì rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri tra la strada provinciale 78 e la strada 122 che collega Canicattì con Castrofilippo. Il giovane alla guida di uno scooter e per causa ancora in corso di accertamento è scivolato sbattendo la testa a terra. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, i medici valutate le gravi condizioni ne hanno disposto il trasferimento negli soccorsi a Palermo. La prognosi sulla vita è riservata.